Buongiorno e buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video, siamo su LeoJ e quindi c'è... Ciao a tutti ragazzi! EA! Facciamo anche la rima. Allora, intanto tiriamo le pulche qua, c'ho in avanzo. Ok, un po' di roba da shard, benissimo. Gli acqua, ovviamente ho finito tutti quelli normali. La bella Terris che abbiamo già. Però, va bene, così. Siamo qui perché è uscito l'Ostectre sovrano, palesemente Raimi. Ha una delle caratteristiche più belle di questo gioco, ovvero l'entrata. Cioè, guardatelo. È bellissimo! Beh, come fate a non apprezzarlo? Guardalo, guardalo come scauta l'avversario, come si insinua nelle comp del Loppo. L'unica domanda che io mi pongo è perché l'avete fatto assassin? Perché è un assassin, sto coso? No, po'. Cioè, è un verme, letteralmente, eh? Non è che lo sto insultando, è un verme. E' vero, però, nell'anime che fa molto la funzione di assassin. L'è stato messo nelle pool con le quali prima facevi i generali marini. Quindi, alla fine, Iei mi ha detto a cosa servono, perché io qui non so, che hanno manco più le risorse, finalmente ho capito la loro utilità, ovvero fare questo. Dove potete prendere, secondo me di buono qui dentro ci stanno, o questi, o questi per pullare, ovviamente, poi stesso questi, però a quel punto, questi 3.000 di questi a 18, sono leggermente meglio ripiare un intero di questo, leggermente perché potrebbero uscire ne più, come non potrebbero uscire ne nessuno, però mi caricano tanto la barra di color rosso. Ci sono le carte, che forse sono la cosa più importante, di solito la potete scegliere, quello che ho capito, perché è un selezore, quindi, effettivamente questo è broken, perché è tipo, io da qui adesso potrei alzarmi la carta di tago, la carta di posedone, io probabilmente adesso prendo questa, perché non ne ho nessuna copia, quando metteranno qui quella di Ikki, ma qui quella di Ikki a questo punto, sono cose ottime da poter usare, ci sono anche le oro, dove potete usufruire di questa carta che è fortissima, questa carta che è fortissima, e, 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 dove è l'ultima, e questa carta qui che è buona, non è fortissima solo perché è limitata, ma sono forti, e poi c'è la broken, che è la più broken anche rossa, qua potete usare anche questa rossa, che fa, è tremendamente forte, così però pure gli equipaggiamenti, ad un costo nemmeno brutto, perché gli omega 3 sono al costo degli omega 2, quindi onersi, onersi ci stanno, ecco questo non esiste, ora andiamo a leggere e vedere perché non esiste, ora, Iei mi diceva che lui lo pullerà, lo skillerà e ce lo porterà, vero? Assolutamente no. Perché, allora andiamo a vedere, la sua arcana è una delle cose più belle a livello di print, ma anche visibile in game, non è brutto in game, ma le animazioni è tutto, eh? Comunque, Raimi evoca i suoi vermi, che comunque sono vermi, beh, ai piedi del nemico, con l'attacco più alto, e lo imprigiona per 3 secondi, durante l'essere imprigionato, il nemico riceverà real damage, quindi come true damage, per l'88% dell'attacco di Raimi, per 0,5 secondi, però questo 88 attacco, non mi sa che forse è in realtà del PG, questo è il dubbio che mi è venuto, eh, mi sa di sì, perché per essere scritto così, io capisco che è dell'attacco, di quello che è stato intrappolato, dai tentacoli, perché sarebbe anche buono, Alla fine l'imprigionamento, subirà un ulteriore danno, 10%, ma va bene, però perché è degli HP massimi del personaggio, allora no, allora ho fatto il fatto di Raimi, allora, se non specificava, eh, quello capì che mi ha fatto strano, perché, non è che lo renderebbe forte, o scarto, solo questo dettaglio, però, comunque sarebbe un po' meglio, anche perché poi questi valli come 3 sotto si alzano, e in più ha un effetto abbastanza carino, randomicamente ruba un buff dal nemico, ogni secondo, e lo prende a se stesso, per cui intrappolato durante l'intrappolamento, la durata di questo, rimane originale a quella del buff, quindi se aveva un buff a 10 secondi, lui se lo incula, e durerà ancora 10 secondi su Raimi, è carina, il problema è che questa è una ultimate, quindi, dovrebbe essere quella che gli svolta il fight, bisognerebbe capire bene l'intrappolamento, ma io dubito che qualcuno andrà a skillarsi in sto robo, più che altro perché è un sistema di pull, che vi danno una roba indietro, ma non è in un sistema di pull, che poi voi volete utilizzare, cioè per cui volete utilizzare risorse, quindi, questo è un po' particolare, mettiamola così, perché non ho mai capito cosa intende, con non può essere selezionato, cioè non può essere targettato, io non ti ho inquietato così, anch'io, però è un po' strano come è scritto, allo stesso tempo, i suoi vermicini, vanno fuori di un nemico randomico, durante questo periodo, il nemico è, non si può curare, mettiamola così, e prenderà il 40% dell'attacco, non si sa ancora mai di chi, di 0,5 secondi, penso però che a questo punto, attacco scritto così, sia di Raimi, perché anche qui, altrimenti, avrebbe un nome diverso, questa attenzione che è una loop skill, quindi è un po' particolare come gestione, però potete usarla, sfruttarla al meglio, tramite, come li chiamiamo, i perk, la chiamiamola così comunque, ha più senso, se Raimi è l'unico rimasto vivo, sul vostro side, dubito che questo possa accadere, la possessione, finisce immediatamente, la possessione, dura 6 secondi, durante, vabbè, poi busta l'attacco che uno viene preso, la cosa carina, livello 3 è carino di questo, la cosa carina, la prende però a livello 3, perché durante la possessione, chiamiamola così, tutto quello che il target si curava, vado a trasferire da Raimi, è un live steal insomma, buono, silent strike, capito, gusto di via da sotto, di lampugno nel nuovo set, fortissimo, Raimi evoca, e di suoi vermi un'altra volta, attaccando un random target, sulla back row però, attenzione, causando lo 180% del danno, e togliendo tutti i buff sul target, in più, a livello 3, che è un grande carino, dopo aver dispellato il buff, metterà il silence al target, per 3 secondi, diciamo che se qui fosse stato 5 secondi, era quasi pure carino, la cosa buona però, è come vedete, che è ancora una loop, quindi, se vuoi andare a mettere lui, e quel pack, lui lo prende poi certamente al buff, e lo aiuta tanto a carburare, però, penso che esplorare i stupidi, sono un po' i moltiplicatori, e il ruolo, perché comunque gli dai, terra, e assassin, terra e assassin, c'è Shura, è bene o male, mi sembra comunque un po' superiore, però, qui invece, quando il danno è ricevuto da Raimi, c'è del 10% dei suoi correnti HP, attenzione, che è abbastanza buono, non è cosa, il danno in eccesso, sarà ridotto del 50%, che è abbastanza eh, anche perché poi diventa 60%, l'unica cosa, qui forse era meglio fare qui, e allora voglio poi alzare, con la percentuale di HP, però, ci sta, la sua clout, bellissima tra parentesi, sembra cyber drago di Mio, qui pica penso, sarà contento della chip, ah, durante il periodo di lockdown, giusto per far tornare due anni fa, ruberà il 30% dell'attacco, dell'attack speed, anzi, per secondo, per secondo, 0,5 fino a cima, non è brutto, dopo il lockdown, l'attack speed rubata, tornerà, entro 36, entro 6 secondi, in pratica, no, per essere a 6 secondi, se vuole rendere me, ah, rimarrà rubata per 6 secondi, anche dopo la fine della roba, il problema è che il target è randomico, o quello col più attacco, non è brutto, però non è detto che sia fortissimo, vabbè, durante il lockdown, randomicamente, stilerà due buff a posto di uno, per nemico, dal nemico, per secondo, ed applica a se stesso, la durata di questi, rimane uguale, va bene, aircaster, come nella skill originale, ecco, sì, praticamente, sì, qual è la aircaster? è questa, ok, la seconda, quella che non è, è la seconda, il target non può ricevere cosmo, eh, questa non è brutta, non può ricevere cosmo, non è brutto, attenzione, non è da sottotutare, durante il periodo, dove l'aircaster, quindi sempre la seconda, è attiva, praticamente, tutto il cosmo, è l'opera data a Raimi, dai, se l'ho capito, manca devo finire leggere, questo è un po' meno buono, l'unico, cioè, non è un problema, è che questa va su un target randomico, è quello, l'unica cosa poi, è che sulla back, sì, però c'è pure quelli di support, non mi piace, e questo è il motivo per cui, a me non piace il PG, questo è qui, Silent Strike, prende un effetto extra, sulla, un PG extra, sulla backroom, è a 9, ne prende due, quindi fa tutta la backroom, a 9 a questo punto non è male, però è Silent Strike, cioè, Silent Strike, Silenzio, è quest'altra, sì, se invece, questa qua, fosse stata su, la seconda, l'air, non era male, perché impediva tutta la backroom, di avere il cosmo, non sarebbe stato troppo forte, sì, ma tanto, sì, si deve divertire, no, beh, comunque, è un buon PG, è stato bilanciato, ovviamente, per non essere troppo forte, proprio perché questi PG, loro pure, sanno che la gente, non li vuole pullare, quindi, sono bravi a gestire il gioco, però, questo era un esempio, di come avrebbero potuto, rendere il PG rotto, però, stanno gestendo bene, i PG sono ottimi, come uscite, dico, quindi, va benissimo così, ora, io accolgo, eh, sì, da dieci cosi a pull, da dieci coralli a pull, il consiglio di E, quindi, lo sto dicendo con accolgo, perché, io ho bisogno di quella carta oro, come avrete capito, comunque, ne ha gli altri shard di PG, uh, addirittura queste può droppare, sì, e l'ultima volta che ho fatto una pull qua, ah, io ti dico solo, che l'ultima volta che ho fatto una pull qua dentro, in questa modalità, c'è la Tetis, e non sto scherzando, ok, dovrei aver fatto, no, vabbè, perché hai pullato la lini? No, ho recuperato i materiali per pullare per le carte, e mi è uscita un'altra fast as wind, poi dicono, poi dici a me, sto ragazzo che ha coraggio, vabbè, ma tu sei oggettivamente scurato, io ti prendo a calci, oggettivamente, mi è uscita anche quella di Shura, quella che ho sa, insultatelo, vi prego, insultatelo, io veramente non ho parole, domanda però, visto che i coralli sono sempre tuoi stessi, e dopo te li fanno scadere o rimangono? credo che scadano, scadano, no, 99% ti dico che scadano, sì, ha senso, adesso più quella gialla, mi prendo un altro fast as wind, 10, 20, e 30, comunque, insultateli nei commenti, per favore, se lo merita, è una bo scena, quello che ha appena fatto, oggi sì, oggi eh, perché oggi, sì, sì, contingentiamo, vedete, vedete, questo metodo è molto buono, di usare un evento, sì, sì, perché anche se il PG, non ritenete di farlo, comunque, con lo scambio, cioè, il prezzo è valido, alla fine scambiate diamanti, vale la pena, ecco, sì, sì, vale la pena, vale molto 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 la pena, sinceramente, e sono fissato col completismo, infatti, sto cercando di capire cosa stai mettendo, ah, ok, la carta di Atena, ma adesso, il fast as wind, voi due già ce l'avete, però anche il Poseidone è un po' marcio, vabbè, togliamo questa però, che è quella che avevo messo in più, fast as wind, opposto, è un figlio che mi dispiace non avere Poseidone, ah, io penso che adesso c'è la Beccro, che è pazza in culo, adesso si parte a buildare Ikki, Ikki c'è una laia, oggi dovrebbe ridere il mio Ikki, in versione alaia, in questo momento, l'unica giusta è questa, che dovrebbe essere ora, però basta, non c'è altro, eh, devi iniziare un attimino a farmargli, sì, sì, perché adesso ho finito i quattro dell'Ave Maria, i miei quattro diamanti luce, sono tutti perfect buildati, Saga ha necessità di pigliare la carta dei gemelli anche lui, però per il resto l'ho fullato di costellazione alla sua, quindi, con tutto, pure lui, devo portarlo prima a diamante, poi non ce lo fai, devo dire che, questo gioco ragazzi, regala soddisfazioni, se iniziate a pigliarlo, cioè io ho farmato, da quando siamo tornati a fare video su questo gioco ad ora, e ora sto ritrovando tutte le mie soddisfazioni, devo dire, le da in pieno, complimenti a risgrupparlo io, ragazzi, grazie per aver visto il video, e buon reumio a tutti, ciao ciao, ciao a tutti, ciao ciao,